Dinosauri, cosa dicono? Ma lui parla di calcio, che non stoppava il pallone. E io dico, nell'Italia calcistica, la maglia della nazionale, da quando esiste il calcio, vi faccio una confidenza, voi sapete quanti l'hanno indossata? Non si arriva a 900 persone, nella storia. Qualcheduno, per sbaglio, me l'ha fatta indossare 4-5 volte, ok? Allora io dico, quindi di calcio in Italia, nella storia, possiamo parlare solo in 900? No? Perché è una delle cose che più amano tutti. Quindi perché devono dire queste minchiate io? No, no, ma io non volevo dire che riscattano. Se quelli che parlano e non l'hanno indossata, allora confermano che non dovrebbero parlare. Si è offeso, si è incazzato. Vabbè, dai via, spegniamo tutto, andiamo a casa. Buonasera a tutti, benvenuti, è la terza puntata del Poretcast. Perché vi domanderete voi, lo chiami così? Perché è un meraviglioso gioco di parole tra podcast e poretti. Vabbè, ma se non capite, non so cosa dirvi. Comunque vi ricordo che questo evento è gentilmente offerto da NordVPN. Signore e signori, ho il piacere di presentare una persona che mi piace tantissimo. Ladies and gentlemen, Lele Adani! Grande Lele! Ciao, grazie. Mamma mia! Lele, allora so, ti ringrazio di essere venuto qua. So che stasera sei andata a giocare al padel come al solito. No, stasera sono venuto da te, oggi pomeriggio sono andata. Com'è andata? È andata bene, direi, perché questi tornei di padel traesauriti continuano. Sì. Ci peggiorano l'esistenza, perché ovviamente rompono dei rapporti. Perché quello che succede nei campi da padel, se c'è qualcuno che è appassionato, comincia ad essere ben noto, nel senso che... E là alzano le mani perché tiffano. Non so se è per il microfono che è ripreso ad andare. Sì, sì, no, ma funziona. O per il discorso sul padel. No, sul padel, sul padel. Ma come ti sei classificato? Come è andata oggi? C'erano nove coppie, tre gironi da tre, passavano otto, sono nove coppie, passavano in otto, quindi sono passato e poi l'escalation mi ha portato in finale, ho perso la finale. Quindi direi che possiamo essere contenti. Beh, bene, bene. Più di una squadra arriva in finale e la perde nella storia. Sì. Quindi non ci si può lamentare, direi. No, no, ma di finale ne parliamo dopo, ne parliamo dopo. Senti una cosa, no, senti una cosa, una prima curiosità. Ma tu, se non avessi fatto il calciatore, il commentatore televisivo per il calcio, cosa avresti fatto nella tua vita? Eh, non avevo un piano B, se parliamo di fare il calciatore. Non avevo un piano B e questo non so se è stato un bene o stato un male, però avevo riposto sempre tutta la mia speranza nel mio sogno. Allora, attualmente, quando mi chiedono se ho dei sogni, in maniera molto diretta, anche discreta, dico, in realtà l'ho realizzato già il mio sogno tanti anni fa, che è stato quello di fare il calciatore. Così lascio spazio anche ai sogni degli altri. Anche questo non so se è un bene o un male, però il mio modo di pensare. Quando ero piccolino non avevo un piano B. Anche mio fratello, che è un anno in meno di me, non aveva un piano B, però lui non è riuscito a realizzare il suo sogno o farlo a pieno. Ha fatto una carriera, secondo me, discreta da calciatore di serie C, che sarebbe stato anche il mio obiettivo, cioè poter vivere di calcio. Beh, comunque, si è realizzato un sogno della maggior parte dei ragazzi, mio figlio e i suoi amici compresi. Cioè, cosa vorrei? Il calciatore. E quindi tu non è che hai pensato, vabbè, se non faccio il calciatore. Hai fatto il calciatore. Ho fatto il calciatore. Fin da 15 anni. Sì, avevo una testa forte, nel senso che ero molto determinato, cercavo di mettere quelle che erano le mie qualità a servizio dei miei sacrifici, che mi accompagnavano nel mio percorso. Non avevo un piano B, ma non puntavo obiettivamente così in alto. Cioè, aver avuto la fortuna di aver giocato anche in squadre importanti, aver giocato tanti anni in Serie A, aver messo la casacca anche della nazionale italiana, per qualche presenza, aver giocato con tanti campioni. Non poteva essere né programmato né previsto. Senti, ma quindi da questa cosa qua si evince che tu a scuola o non ci volevi andare o andavi male. Oh, non ce la facevo. Avevo dei conflitti clamorosi. Ma che, 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 cioè, dopo la terza media cosa hai fatto? Ma ho perso un po' di tempo lì. Cioè, perdevo del tempo durante la mattina. No, ma voglio dire, cioè, ne parla uno che ha la tua stessa. Ma è così. Non ho giocato a calcio, ma dopo la terza media ti sei iscritto in qualche scuola o no? Sì, no, ho fatto l'istituto tecnico e obiettivamente l'ho fatto solo perché avevo uno dei miei amici che, che andava in quella scuola e volevo stare con lui. E bigiavi con lui. Assolutamente. No, no, ma non c'era, non c'era interesse, non sentivo nell'anima, anzi, era motivo di conflitto. Non sentirti in colpa perché io ho fatto l'istituto professionale per elettromeccanici e in casa mia non so cambiare una lampadina, quindi sta tranquillo. Ma tu che istituto tecnico era? Istituto tecnico industriale. Ho fatto il biennio Correggio. Sì. E dove sono nato, perché io sono di San Martino e Rio. E tutti scrivono anche Wikipedia che io sono di Correggio. No, è che a San Martino non c'era l'ospedale. C'è qualcuno di Wikipedia? Se non c'era l'ospedale doveva venire fuori sto bambino da Correggio, che era a tre chilometri. Da lì io sono uscito, dall'ospedale di Correggio. Quindi biennio Correggio, poi mi sono trasferito a Reggio Emilia per fare, quindi bocciato in terza, poi passato, bocciato in quarta, una roba poi serale, tempo perso. Anche tu hai fatto la scuola serale? Sì, ma... Anche io ho fatto la scuola serale. Serale, diurne, c'era da fare il calciatore. Io avevo investito il mio tempo lì. Ero perdutamente innamorato, lo sono ancora di più oggi. E quindi, dai, è stata quella la mia vocazione. Senti, si può dire che tu sei diventato, nel mondo del calcio, sei diventato più famoso come commentatore che non come... Non puoi dire che ero scarso. No, no. Capito? No, 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 no. Lo fate tutti, rompete sempre i coglioni con sta storia, soprattutto gli invidiosi. Cosa fanno gli invidiosi? Ma come fa a parlare di calcio che era scarso? Allora, adesso ti dico una cosa. Io sono invidioso da bestia, perché era il mio... Dopo ti racconto la mia carriera calcistica. Dimmela. Ti devo dire questa cosa io. Tu pensa. Guarda che io ho una carriera calcistica. Allora, credo che sia più prestigiosa della mia, quindi vai te. No, no, dai a dire. No, vabbè. No, io ti dico questo. Allora, c'è sempre questo ritornello che io accetto perché fa parte del mondo della comunicazione. Perché il mondo della comunicazione è talmente vasto e per tanti versi la comunicazione calcistica è molto mediocre. Quindi per questo poi nascono nuove figure che con passione, preparazione, rispetto vengono fuori e cercano di trovare una strada. Probabilmente anche tanti ragazzi qua cercano di trovare la loro strada per passione o approfondimento calcistico. Quindi poi li rispetto e auguro il meglio a tutti quanti. Ok? E allora i dinosauri, che non si sono estinti, ci sono ancora. Do you understand i dinosauri? I dinosauri, cosa dicono? Ma lui parla di calcio, che non stoppava il pallone. E io dico, nell'Italia calcistica, la maglia della nazionale, da quando esiste il calcio, vi faccio una confidenza. Voi sapete quanti l'hanno indossata? Non si arriva a 900 persone nella storia. Qualcheduno per sbaglio me l'ha fatta indossare 4-5 volte, ok? Allora io dico, quindi di calcio in Italia, nella storia, possiamo parlare solo in 900? No? Perché è una delle cose che più amano tutti. Quindi perché devono dire queste minchiate io? No, no, ma io non volevo dire che riscattano. C'è quelli che parlano e non l'hanno indossata, allora confermano che non dovrebbero parlare. Si è offeso, si è incazzato. Capito? Vabbè, dai, 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 spegniamo tutto, andiamo a casa. Dai, dai, dai. No, non volevo dire... Aspetta, minchia, non riesco più a accendere. No, volevo dire che... È vero? È fatto molto bene. Bello, bello. L'ha fatto Gil. Molto moderno. Sempre Gil. Che... No, tu hai avuto una carriera più che rispettabile, poi hai giocato nella mia squadra, figurati. No, no, no. No, 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 ti ascolto adesso. Però, 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 è un caso incredibile, credo... Secondo me siete solo in due, no? Tu e lo zio Bergomi, no? Che avendo avuto una carriera calcistica, certo, differente, eccetera, eccetera, poi tu a un certo punto, no? Una sera di settembre del 2018 sei diventato famosissimo. Alcuni me l'hanno detto di tutti i colori, perché c'è sempre la contrapposizione. Aspetta, ci sono un po' di argomenti. Io quella sera ero allo stadio, tanto non è un segreto, sono un tifoso dell'Inter, ero con mio figlio, Inter Tottenham, siamo sotto 1-0 per un gol di Ericsson, a pochi minuti della fine pareggiamo. Ericsson era un allenatore però, non vorrei mai interromperti perché non ho lo status. Andiamo a casa, via! Non ho la statura, però... No, la mia emozione! Ericsson! E' stato anche un giocatore poi, quindi non ti è concesso l'errore qui, però... Hai ragione, hai ragione, Ericsson... Da 0-1, sì. Pareggia Icardi? Sì. Una sciabolata al volo. Bellissimo gol. Ma a un certo punto, cross in area, gol. Trevisani, il tuo socio, è una coppia meravigliosa, urla, non è possibile, non è possibile, e poi tu te ne esci con questa frase, e la garra ci arrua. Madonna. Però, però, ascolta, ascolta... Fai rivivere quel momento... Aspetta un attimo, io ero allo stadio, noi siamo impazziti, come tutti, come... Però non sapevamo di questa cosa. Tornando a casa e guardando gli highlights abbiamo scoperto questa cosa qua, che ti ha reso celebre, ma ti ha creato dei problemi. Un dato in tendenza su Twitter, ma questo un giorno sì, un giorno anche... No, però ti ha anche creato tanti detrattori per quel... Sì, per questo, ma in genere sul Twitter offendono, per questo te lo dicevo. Allora, chi ama il calcio, chi... No, perché, scusami, scusami, scusami... Come incazzo io, eh? No, perché tu, non sei stato insieme ad altri, questo è il mio modesto parere, insieme allo zio Bergomi e a Caressa, che avete completamente rivoluzionato il mondo della telecronaca calcistica. Lo avete... Tu prima l'hai detto, i dinosauri, altre cose, però fa conto che io, quando ero un ragazzino, e vedevo le partite di mondiale o certe partite di Coppa dei Campioni, e al massimo il commentatore diceva, quasi gol. Niccolò Carosio. Capisci? Da Niccolò Carosio. Niccolò Carosio, Nando Martellini, campione del mondo, campione del mondo, campione del mondo. Sì, 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 ci sono i tempi e ci sono... Esatto, fino ad arrivare, beh, abbracciamoci tutti, andiamo a Berlino, andiamo a Berlino e... Alla gara ciarrua. La gara ciarrua. Eh, ma è la storia del calcio. Per me il calcio è una perdizione continua, un'ossessione, una ricerca. E la storia del calcio ti porta, nell'andarla a conoscere, a trovare delle storie nel mondo che sono clamorose, no? E in quella zona del mondo, a cavallo del Rio della Plata, no? Che divide Argentino-Uruguay. Caspita, hanno inventato una cosa molto più grande del gioco del calcio, è la passione per il calcio. Esatto, è qua che ti volevo. Esatto, nella passione per il calcio c'è un paese, l'Uruguay, che è concentrato molto intorno a Montevideo, che ha 3 milioni di abitanti. 3 milioni di abitanti è veramente la popolazione della Toscana e non ti spieghi come possono aver vinto i mondiali, le olimpiadi, tante coppe americhe. E' proprio quel qualcosa in più che è dato dalla sua storia. Ma io non pensavo, voglio dire, di tirar fuori quella cosa in quel momento, e però io ce l'ho sempre dentro. Allora a questo punto il calcio ti chiama delle volte a uscire. E credimi, Giacomo, a volte ci sono dei momenti, come è successo anche ai mondiali, che tu non prepari nulla di quello che poi dirai. Tu semplicemente arrivi allo stadio o alla partita che conosci, diciamo così, le dinamiche dei calciatori, delle squadre, degli allenatori, che sono arrivate a giocare quella partita e che tu devi raccontare. Ma arriva un momento che tutto questo va in secondo piano, perché arriva l'epica, la mistica, arriva la storia, arriva l'amore. Allora io penso che nell'amore non ci si debba contenere. Capito? Io penso questo. Fermati qua, perché l'argomento è gigantesco. Tu hai parlato dell'Uruguay e così, io te lo dico sinteticamente, ci abbiniamo la gara ciarrua, che poi per quei pochi che ancora non lo sanno magari ci soffermiamo, spieghi cosa vuol dire. Ma lì sono tre paesi che detengono un po' e che sono nell'elite del calcio. L'Uruguay, l'Argentina e il Brasile. La gara ciarrua è per l'Uruguay. La ginga per il Brasile e l'Argentina? L'Argentina è tutto. L'Argentina è un popolo ribelle, è un popolo che ama, che mette tutto sul piatto per l'amore di quei colori. In Argentina hanno inventato i canti più belli del calcio. Non sono cori, sono canzoni d'amore, che poi vengono riprese per esempio in tutti gli stadi del mondo, anche della Premier League. È condivisione, è proprio mistica l'Argentina. E poi dopo ho avuto i due giocatori più clamorosi della storia del calcio. Maradona e Messi. E quante cose è l'Argentina? È anche sacrificio, è anche religione per quanto riguarda proprio questo aspetto. Poi ci sono vari quartieri, per esempio Buenos Aires, e i quartieri difendono i loro colori, dal bambino quando nasce all'anziano. Sono innamorati, vanno allo stadio e sono un tutt'uno con i giocatori. Allora, l'Argentino che tifa e l'Argentino che gioca, praticamente si dice che il giocatore gioca con l'amore dei tifosi e il tifoso suda come un calciatore in campo, no? Sono una cosa unica. E' quindi così. Ma senti un po', rispetto al Brasile, come mai c'è questa contrapposizione al di là della nazione, eccetera? Ma sento sotto sotto, vorreggimi se sbaglio, che ci sia proprio una visione calcistica, oserei dire, quasi contrapposta. Allora, il brasiliano, che sono i calciatori più forti al mondo, da sempre. Sì, sei convinto? Non io. No, no, non io. Io cerco di tradurre e portare alle persone. È sicuramente così. Nel brasiliano c'è tutto. C'è la forza, c'è l'intelligenza, c'è la gioia del gioco, c'è l'imprevedibilità. Poi chiaramente... Ma secondo te quanta genetica c'è in quelle cose lì? Tanta, tanta. Tanta creatività. Infatti il brasiliano devi rispettarlo nella sua storia, cercando di accompagnarlo, non devi imporgli. Devi accompagnarlo con l'evoluzione tattica, l'evoluzione analitica, la preparazione atletica. Però dentro il brasiliano, che poi il Brasile è molto grande, ci sono tante tipologie di Brasile, però troviamo tante tipologie di persone, tante tipologie, quindi in questo caso, di calciatori. Però conservano, secondo me, quella loro magia e quella luce negli occhi che permette loro di fare cose diverse da tutti in campo. Io sento questo nel Brasile. Mi emoziona molto nel Brasile. Mi avvicina sempre di più al calcio, mi rinnova l'amore del calcio. Sai perché? Perché l'evoluzione porta sempre all'analisi, all'approfondimento. Anche noi molte volte quando parliamo siamo a volte anche un po' pesanti per deformazione professionale nel cercare l'aspetto tattico, la diagonale, la catena di sinistro, di destra. Il brasiliano gli devi rompere un po' meno i coglioni. Cioè, al brasiliano gli devi lasciare a lui l'interpretazione. E quando io lo vedo voglio fare un passo indietro e godermi la magia di un calciatore del Brasile. Ma tu hai giocato con qualche brasiliano o contro? Con il centroavanti più forte della storia del calcio o contro che Ronaldo. Ho giocato con Adriano quando ero all'Inter. Ho giocato con brasiliani, argentini, paraguaiani, colombiani. Ho giocato con tanti calciatori dell'Est. Chi fa una carriera negli anni come ho fatto io nel 90, che c'erano tanti stranieri, ne ho visti di tutti i tipi. E posso dire una cosa, che i calciatori forti nascono in ogni zona del mondo. Io ho giocato nell'Inter con un calciatore fortissimo che era Stefan Dalmat. Francese pelato. Era forte, aveva forza tecnica, calciava da lontano. Tu magari lo insultavi allo stadio. No, no, puoi parlare di un altro calciatore perché mi fa venire un dolore pazzesco. Come mai? Inter-Chievo, gol pazzesco di Dalmat. Poi abbiamo perso lo scudetto contro quei bastardi. Vabbè, ma devo dire... No, ma io lo amavo Dalmat. Era un po' indolente. Sarebbe l'unica volta, però non è l'unica volta. No, figurati. Anche l'anno scorso. Però, vabbè. Che era così, quindi. Brasiliani, argentini, uruguagli. Tu, da difensore, qual è l'attaccante che ti ha fatto impazzire? Ah, guarda, ho giocato contro tanti. Veramente io devo dirti che Luiz Nazario da Lima, Ronaldo era di un'altra categoria. Perché? Perché lui, nel suo tempo, ha fatto vedere cose che non c'erano. Ci siamo? Cioè, lui, quello che tu vedi adesso, quindi fai conto 25 anni dopo, più o meno, dei suoi anni migliori, adesso lo puoi vedere fatto da tanti calcettori. Poi anche lì ci sono i livelli. Però, quello che fa Neymar, Fambapè, tu lo puoi vedere adesso. Ma allora non lo conoscevi. Tu non potevi immaginare che un attaccante, che per tutti, compreso noi difensori, era quello da marcare perché in aria ti faceva il contromovimento e ti sterzava e ti tirava, no? Oppure ti andava sopra di testa, per dire. E invece quel ragazzo ha sempre fatto cose nuove, cose speciali. Muoveva le gambe, le caviglie, i doppi passi, la capacità di tirare di forza, di precisione, di scegliere di mettere la palla a due dita dal palo e la palla andava lì. Quindi tu non potevi neanche indirizzarlo, perché se lui aveva uno spazio, no? La tua contrapposizione, lui si faceva bastare con lo spazio. e anche il portiere non poteva leggerlo. Troppo grande. È il momento di far emergere uno scoop. Sapevo che sarebbe arrivato. Io ho giocato col fenomeno. Addio al calcio di Walter Zenga, San Siro. Grande Walter. Grande Walter, no? e ha invitato di tutto, c'era di tutto, no? Compresi? Compresi Aldo Giovanni e Giacomo, no? No, vai, dimmi la pena. Spogliatoio, spogliatoio, ovviamente intimiditi tutti, perché c'era Breme, c'era Ferri, c'era tutto, c'era Mancini, no? E c'era soprattutto Ronaldo, il fenomeno, no? A un certo punto noi lì, noi tutte a tre metti sugli calzettoni, così, per non farsi vedere, a un certo punto Mancini dice Ronny, facciamo fare un gol a Giacomo. Dico, no, dai. Ti prego, non fare il pirla, no? Sì, sì, dai, dai, dai. Allora Mancini dice Ronny, tu mi dai la palla, io la do a Giacomo, e io, no, vi prego, non fate così. Tu, Giacomo, la dai a Ronny, Ronny te la dai in mezzo e tu fai gol. Ok? E tu facevi parte di questo tridente? Sì. Vuoi sapere com'è andata a finire? A un certo punto mi sono nascosto per tutta la partita, no? Perché doveva arrivare quel momento. Perché doveva arrivare quel momento, no? E Mancini a un certo punto fa Dai! Sai come fa il mister della nazionale? No, cazzi prego, mi sto cagando su. Dai! Non caglioni! Ronny! Insomma, insomma. Cioè, lui mi dà la palla, io do la palla, non so come ho fatto a dare la palla a Ronny, Ronny, e me la dà in mezzo all'aria, io so davanti al portiere, un tiro di merda. E la parata? Ah no, è uscito fuori. Sì, è uscito fuori. Pensa a Giacomo che... Allora, sai come mi ha insultato il mio saccio Aldo? Fai veramente cacare. Se aveva ragione. Anche perché Mancini, aveva dovuto avvisare anche tutta la difesa avversaria. No, ma la difesa quando mi ha visto, Breme e Atteferi, ha fatto così. Cioè, mi ha lasciato andare, capito? Il dramma è stato... Che io davanti al portiere, che neanche mi ricordo più chi fosse, proprio mi sono cagato sotto e... Ti posso fare una domanda? Com'è risposto San Siro al tuo tiro? È come l'altra sera con Bellanova. All'uscita piangevo anch'io. È duro, è duro. Però un gol nella mia vita l'ho fatto, dopo te lo racconto. Però adesso... Magari di là. Ancora siamo pochi intimi, no? Senti, ma parliamo di padel. Come mai sta fo... Cos'è? Hai visto? Il tuo padel hanno fischiato. È arrivata la risposta. Non hai padel. Così, quasi da un altro mondo hanno fischiato. Non hai... Perché? Allora... Poi tu lo dici un tennista. Grande tennista. Allora, per prima cosa vorrei dire questo. Che nessuno si offende in sala, ma il padel è uno sport per persone intelligenti. Non voglio... Che cosa dici? No! Evidentemente, se rimani sul tennis, no, ma... Però davvero, provalo di più. Perché il padel rispetto al tennis ha un alleato in più che può essere un nemico in più. Che è? Sono i vetri. Muri, vetri. E allora? E allora vuol dire che se tu subisci una schiacciata... E non è difficile subire. Capito? Eh? Col tennis corri all'indietro, perché prendi lo spazio. Col padel devi correre in avanti, perché il vetro te la riporta. Già questo richiede uno sforzo mentale. Però la verità è che il padel piace, secondo me, perché dentro ci sono tante strategie. Innanzitutto, socializzi tantissimo. Ti incazzi, ma vai a letto pensandoci e ti svegli pensandoci. Dai, fa la battuta che una volta si pensava ad altro. Era un altro argomento una volta. Non mi offendo, non preoccuparti. Però il padel è così. Cioè, se c'era Cassano ti diceva così, ma... No, Cassano è più malato il padel di me, te e tutti questi messi insieme, ragazzi. Allora, ti dico questo. Il padel, quando tu trovi la coppia giusta, che comincia a giocare, vedi i miglioramenti, vedi le strategie, vedi il polso, la mente, e poi dopo giochi e fai uno sport senza, diciamo, romperti i marroni e andare sempre a correre, come io faccio, ma è fatica. Cioè, io quando vado a correre, faccio molta fatica. Poi l'allenamento si fa, però ci vuole un grande sforzo, capito? Mentre il padel c'è il divertimento. Il divertimento che porta a usare coordinazione, pensiero. Ed è incredibile come abbia preso un po' tutti. E ci possono giocare veramente tutti. Anch'io. Sì? Io sono pronto a entrare in un campo con te. Basta che mi ascolti. Perché chi non mi ascolta e soprattutto viene dal tennis e gli dico, vetro! E loro vogliono prenderla al volo. Non possono, ti spiego il perché. Perché se uno ti schiaccia forte, tu la prendi al volo. E poi magari fai anche il ganso perché dici, vedi, io non ho bisogno del vetro, la rimetto di là. Ma di là ti rischiacciano. Invece il vetro trasforma l'azione, come direbbe un bravo telecronista, da difensiva a offensiva. E quindi dopo attacchi te lui. Mi stai seguendo o no? Ti vedo un po' perplesso. Perché mi fai così scemo? No? Tutt'altro. Ti ho appena invitato su un campo. Non so se posso. Allora tu, cioè sei un grande anche perché, che non è da tutti, eh. Cioè tu come ex calciatore, come telecronista sportivo, calcistico, mi sei arrivato in semifinale al campionato del mondo. Bellissimo, eh. Cioè è ovvio che, sono sicuro che tutti quelli che c'erano qua ti avrebbero voluto sentire in finale. Ma non voglio suscitare polemiche o... Però... Ma a me piace la polemica. Era la tua partita. Basta quacchette che non dicono niente. No, no, era, figurati, era la tua partita. Perché anche lì, anche in questo torneo, se ancora una volta, hai dato dimostrazione che la passione, l'amore per una cosa va al di là della tecnica. Ma va nettamente al di là della tecnica. Per cui tu, amorevolmente, hai seguito la tua nazionale. Perché è chiaro che tu ti favi Argentina, no? E poi, dopo parliamo anche del... Della deontologia del telecronista. Però era talmente evidente e talmente bello, no? Che tu mettevi l'amore in quella cosa lì che... Beh, in occasione del... Dei cammelli, no? Lì sei impazzito. Era bello, eh? Lì sei impazzito. Beh, ma però, però voglio dire, sei impazzito? Ma chi non sarebbe impazzito vedendo un calciatore... Dribblare i cammelli nel deserto. Eravamo a Doha, cioè eravamo in Qatar, c'era il deserto. E fare quel passaggio lì, no? Quello là quale? Quello là. Hai visto come l'ha data? Hai visto come l'ha data? Ma anche l'Argentina ha scelto me. Perché io la prima partita non l'ho commentata quanto ho perso con l'Arabia Saudita. Io, quando sono arrivato a Doha, avevo l'elenco delle prime mie tredici partite. L'Argentina l'avrei commentata contro il Messico, che era la seconda. La prima contro l'Arabia Saudita non era in programma, così come non è mai stata in programma la finale. Quindi, io quando vado a commentare Argentina-Messico, dal media center dove la stampa, esco e vedo una bandierina per terra, con praticamente dell'Argentina, io vedo un segnale, no? Io sono un po' così, cerco di cogliere i segnali che mi dà la vita. Quindi vado a prendere quella bandierina, sfilo, lascio lì l'asticella, era lì, l'ho lasciata lì, no? Vuol dire che doveva stare lì e la bandiera doveva venire con me. E dopo, in questa partita che è stata veramente brutta, quella partita lì di Argentina-Messica è stata brutta, però a metà secondo tempo, il destino ha scelto poi e ha indirizzato. E allora io avevo tutto dentro. E quindi da lì è nato il primo grido d'amore verso quello che poi avevo ricevuto. Un grido d'amore che va a restituire tutto il percorso che uno fa, quando ti dicevo tutti i giorni cerca questa passione e cerca di rispettarla, anche nel nostro mondo, che è un mondo di comunicazione, quindi nel darlo ai ragazzi. Tante persone che sono qui oggi, e io sono grato che siate qui, e probabilmente hanno voglia di sentire certe cose, e io non mi posso sottrarre. Perché se Messi riceve la palla e cambia il suo destino e quello dell'Argentina, è quello di 40 milioni, e tu non puoi dire ma sai che ha fatto gol? Se mossa la rete, non vi sembra a voi a casa che sia gol dell'Argentina 1-0? Non si parla più così. Non si parla più così durante, dopo, nella preparazione. non esiste più. Io la sento così e mi lascio andare. Perché ho la fortuna di amare, quindi non sto a frenarmi. Mi verrebbe da dire che, e qui divento curioso, perché tu hai giocato a calcio, commenti calcio, ma hai di fronte a te una platea, me compreso, di persone che non hanno mai giocato a calcio, a parte io, dopo vi racconto un gol leggendario, ma siamo dei tifosi, credo che qua il 90% delle persone sono dei tifosi e quindi soffre e vive le partite diversamente da te, le vive senza razziocinio, senza equilibrio, tifa, ama la sua squadra, anche se ha dei giocatori che fanno schifo, anche se gioca male, eccetera. Io rispetto molto questo amore di cui parli. Ma infatti... Lo rispetto molto, anzi cerco proprio di... Io sono una persona che, diciamo così, questo lavoro lo faccio da, diciamo così, da 12-13 anni, ma in realtà l'ho fatto tutta la vita, perché io come parlo nei miei ambiti professionali, come parlo qui davanti a voi stasera, parlo da sempre con i miei amici, al ristorante, parlavo nel paese, parlavo nelle mie squadre di calcio quando giocavo, che ero un gran rompicoglione, io sai perché? Perché io quello che mi veniva detto di fare volevo capirlo. Quando mi veniva, diciamo così, proposto un'esercitazione o un movimento, no? Nel mio ruolo, non mi bastava a me. Cioè, io mi fidavo e lo facevo, ma volevo farmelo spiegare. No, ma mi interessa sapere se tu sei mai stato... Adesso è evidente che tu tifi per Messi e per Maragalli. Io tifo per il calcio. Sì, per il calcio, però ovviamente... Ma tu sei mai stato tifoso di una squadra di calcio italiana? Allora, io ti dico, quando ero piccolo e prima di fare il professionista, mio papà da milanista mi portava allo stadio, quindi io ero uno che seguiva con amore il Milan. Ero innamorato del Milan. Ma per fare il tuo lavoro bisogna smettere di essere tifosi. Dal mio punto di vista, dal mio punto di vista, quando ho cominciato a fare il calciatore ero solo innamorato del mio lavoro e delle squadre della maglia a cui vestivo. Quindi io dal Modena, al Brescia, all'Inter, alla Fiorentina, tutte quante, perché ho conosciuto persone. Quindi poi la persona ti affezioni, la porti nel cuore. Ho conosciuto i tifosi, verso il quale ho molto rispetto. E quindi è arrivata... Poi cosa è successo di quel tifo che tu parli? Eh, cosa è successo? È successo che io da grande, grazie a un affetto, un mio compagno di squadra, mi sono innamorato da grande di una squadra. Almeida. Esatto, del River Plate. E innamorarsi da grande è un amore diverso, secondo me, perché da piccolo molte volte lo erediti. E dalla famiglia spesso, no? E segui, e uno è scalmanato, perché poi ragioni sugli sfottò. Da grande, da grande, proprio il mio amore è stato documentato anche dalla ricerca verso la storia di quella squadra. Perché l'affetto, l'amicizia verso questa persona, verso Mattia Salmeida, mi ha portato ad andare in Argentina, mi ha portato a guardare di notte i campionati sudamericani, mi ha portato a studiare la storia di River Plate. E lì è stato un amore, secondo me, anche per forza maggiore, perfetto. perché mi riconosco tantissimo nei valori che ha River Plate, nella storia dei suoi calciatori, delle sue figure importanti, nello stile di un determinato tipo di calcio. E mentre poi commentavo, River è diventata una delle squadre più importanti del mondo, è tornata dopo essere andata in Serie B. Perché in Serie B bisogna amare di più, eh? Certo. Noi non lo sappiamo. È un amore che ci manca, però. Senti. Che maglia anche il River, bianca con la banda rossa. Bella, bella, bella. Posso raccontarti un episodio? Ma tu la conosci la macchina del River degli anni 40? Questi cinque giocatori clamorosi che hanno dato, no, hanno dato vita a tanto del calcio moderno che vediamo oggi, quindi clamorosi. però erano cinque calciatori che dalla metà campo in avanti cambiavano ruolo, nessuno aveva un punto di riferimento quando si dice calcio totale che poi è stato quello dell'Olanda. Altro che Ajax e Olanda. No, quello lì partiva anche da là. Quindi nel ricercare questo ho proprio come uniti i puntini. Bellissimo. Fammi raccontare una cosa a proposito del River Plate. Sai chi è Gajardo? River Plate, adesso dico una cosa, io sono stato allenatore del River Milano. Attenzione. Ci sono tanti River, flume. River Milano, però abbiamo la stessa maglia del River Plate. Bianca con la banda. Sono dei testimoni qua in sala. Ma scusami, hai qualche maglia a casa? Certo che ce l'ho. Perché ti racconto? Non pensi che era il caso di portarla. Eravamo in vacanza, in montagna, eccetera, eccetera, e lì nel luogo dove andavo c'era, adesso non c'è più, eccetera, il Torino Calcio che faceva dei campos. Perché sono gemellati. Bravo. Eh ma aspetta, aspetta, allora mio figlio, altri suoi amici giocavano, eccetera, eccetera, e alla fine del mese il mister del Torino Calcio prendeva una selezione del Torino Calcio e sfidava i cosiddetti turisti milanesi. Quindi, partita, si scavano i gagliardetti, noi abbiamo fatto il gagliardetto River Milano, quella del River, no? E siamo riusciti a vincere, a strappare, a alzare la coppa. Hai fatto tante cose nella tua vita? No, tante esperienze. No, ma prima di salutarti voglio raccontarti l'unico gol della mia vita calcistica. intanto vorrei che tu raccontassi il famoso perché ti conosce un gol che ha fatto ritornare a casa un ragazzino. Quando parlo del destino, dei segnali, anche della fede, no? No, della fede, dopo ne parliamo anche della fede, parliamo di famiglia, di fede, di mamme. Parliamo, dai, sì, mi piace, sei stato carinissimo. quando mi ha telefonato Giacomo, che era quando sono tornato da Al-Qatar, ero quattro giorni, sai quei quattro giorni che servono? Sono stati in accappatoio quattro giorni per recuperare, mi telefoni tutti, richiamo e devo dire che sei stato gentilissimo. Hai avuto una dolcezza, una comunicazione che io amo, molto rispetto, molto garbo e se ti ricordi bene quasi non torna neanche ho fatto fine la telefonata che ti ho detto dimmi quando è, vengo, con piacere, perché sei stato così. Quindi ci tengo molto ai valori, al rispetto delle persone, infatti sono felice di essere qua con te. E tornando al... Francesco. Francesco, incredibile, perché guarda che io era il giorno di questa Coppa Italia. Ci sono delle donne in sala che non sanno la storia di Francesco, perché il calcio non è solo... Sì, per chi crede, Per chi... Perché non si ferma davanti alla materia. Inter-Juve, Coppa Italia. Sì, Faccio gol al novantesimo, novantacinquesimo, e tolgo quella maglia con la scritta Francesco torna. Lui vede quella scritta quando era, diciamo, perso nelle sue incertezze, debolezze, adolescenziali, in un bar a Genova, e vedendo, vedendo quella scritta, è tornato a casa della famiglia. È tornato a casa della famiglia, visto proprio quel momento, era da solo in un bar a Genova, in quel momento, la Rai faccia vedere quella partita, e lui l'ha vista in quel momento lì ed è tornato. Poi ho avuto la fortuna sia di conoscerlo di persona che anche di sentirlo durante il lockdown, che quindi parliamo di 16 anni dopo, e quindi gli è servito molto per svoltare quella vita. Però, è come è nata la cosa che secondo me fa la differenza, perché lui, il padre di questo ragazzo, con un giornalista di Brescia, vengono il giorno della partita, il mercoledì, alla Pinettina, e chiedono un incontro, io dico venite, cosa dobbiamo parlare, perché il giorno della partita, diciamo così, certi contesti sono un po' blindati, perché c'è il ritiro, la preparazione, ci sono gli orari da rispettare, lui viene e chiede di parlare con me, vengono, io parlo, e mi dicono, questo ragazzo è andato via da due giorni, non lo trovano mica, non trovo più nessuno, come possiamo? è possibile fare qualcun appello e io gli dico al padre e a questo giornalista, guarda, non c'è più tempo per fare niente, non riusciamo a organizzare niente stasera allo stadio, se abbiamo tutti fede e crediamo, la metto io una maglia, quindi io sono difensore, io, era il primo pomeriggio, vado dal magazziniere e gli dico, guarda, da Paolo e Claudio, gli dico, ragazzi, facciamo una maglia che ho scritto Francesco torna bianca e la metto sotto io, perché non potevo dirlo agli altri ragazzi, non c'era il modo di preparare questa cosa, o chiederlo all'allenatore o al team manager o al direttore, ho detto, la faccio io ed è accaduto proprio questo, il 2-1 per la Juve è il 94-esimo, io mi ricordo Stankovic che parte sulla sinistra e io da difensore parto, faccio 50 metri e vado proprio in centro aria di rigore, la palla passa, Emre tira e mi arriva la palla sul piede, io potevo anche sbagliarlo come hai fatto te, ma io ho messo il piede, e c'è stato proprio un gioco di carambole, papà, gol, sono tornato a metà campo e ho alzato la maglia, è tornato, abbiamo contribuito, eh? Te l'abbiamo fatta. Beh, no, scusami, Lele, per dire, poi uno è libero di pensare come la vuola, però, ma quanto, tu dici, vabbè, sarà stato un caso, ma quanto si è impegnato sto caso? Il papà che viene al mattino, prima ti telefona, tu gli dici di sì, questo viene da pieno gentile, tu gli dici che è un casino, questo se ne andrà probabilmente un po' sconsolato, tu vai dal magazziniere, il magazziniere dirà ma che cazzo vuole Lele, metti sta maglia, ma anche la provvidenza avrà detto ma è un difensore, non segna mai questo qua. Eh, lo so, però, no, ma dico, ma non è finita, cioè al 94esimo, te che dovresti star lì. Sì, ma eravamo 2 a 1, ma quello ha un senso, sì, però poteva andare un altro. Se eravamo 2 a 2 non andavo, capisci? Quindi, la fede, quindi, se credi, non si giudica e non la valuti sul quanto sia conveniente, è che senti di esserne coinvolto. Certo. Siamo? No, certo. Ma Lele, aspetta, non è finita. Sei coinvolto, quindi se sei coinvolto non ti puoi girare dall'altra parte per quanto mi riguarda. Lele, non è finita, tu ti sei impegnato, la carambola messa dentro, ma non era certo che il ragazzino stesse davanti alla TV. Eh, ma lo... Era tifoso dell'Inter. Ed era Genova. Ed era Genova. Però, esatto, doveva essere così. E nel bar a volte si vede, che ne so, le serie TV, eh? No, loro non c'erano. C'era la partita. Era Inter-Juve, era, in quel momento c'era uno sceraltissimo perché la semifinale di Inter-Juve che si porta, poi perdemmo i rigori, eh? Sbagliò Bobo, il quinto. Ma abbiamo vinto nella vita, lì. Eh? Senti, vabbè, a proposito di ragazzi, ti piacerebbe averne uno nella vita prima o poi? Diventare papà? Ma, sì, nel senso, eh, non sono convincente, No, 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 eh, certamente sì. Certamente sì. Poi, io ho una vita felice, sono molto, molto contento, molto, cerco sempre di restituire quello che tutti i giorni ho, sia nei rapporti che in quello che devo fare, no? Nel lavoro, negli affetti, sono circondato da tante persone che mi amano, sono grato per questo. Tuoi genitori, com'erano? Erano persone meravigliose, uno c'è ancora che è mio papà, mia mamma non c'è più. Quindi io ho preso, credo, la forza, l'energia e anche, come ti posso dire, il rispetto delle situazioni della vita e dei sacrifici, diciamo, quella figura seria, giusta, rigida, anche esemplare, che è mio papà, e poi credo che ho preso tutto l'amore del mondo da mia madre, che era la migliore persona che ho conosciuto nella mia vita e non era solo perché era la mamma, sentivo, ho sempre sentito, lo sento tuttora, era una persona speciale. Nell'operato di mia madre trovo giustificata la fede in Dio. È come un esempio naturale. È come una... È un segno tangibile dell'amore di Dio perché non si può avere così tanto amore incondizionatamente perché poi persone molte volte amano ma non tutte le persone amano e stanno al loro posto, al loro posto con quella dolcezza, con quel modo di essere sempre avanti alle cose, con quella capacità di starne distaccata ma allo stesso tempo di darti una forza interiore, una corazza, un'armatura. Io penso che le scelte giuste che ho fatto della mia vita le ho fatte perché ho sentito la sua voce, la sua carezza. È stata una cosa veramente traumatica che chiaramente chi l'ha vissuta sa che uno non può essere preparato alla perdita della mamma, no? Non lo aspetti mai anche se può essere in età avanzata, un brutto male l'ha portata via, però questa cosa qua mi piace condividerla perché lo dico seriamente e lo dico sinceramente la sento veramente dentro e la trovo in ogni cosa. Non so come è possibile, forse è la forza dell'amore. Ma è possibile, credi. Trovarla in ogni cosa, sentire, per esempio, mia mamma mi rende più giusto, mi rende molto più giusto, mi aiuta ad avere pazienza che non ne ho sempre tanta e mi aiuta ad avere determinazione, mi aiuta a non accettare le ingiustizie, cioè non le accetto. Io non riesco a convivere con i no se non mi sono dimostrati che è giusto fare un passo indietro. I no, a priori, non li capisco, li combatto. Capito? E questa fa parte di quel senso di giusto che è mia madre, che chiaramente è convertita e si è adattata a entrare dentro me, no? A darmi il segnale quando serve. Ha fatto questo passaggio. È un fenomeno. È veramente un crack totale. Cioè, sì. No, no, ma è così, è così, ci credo, ci credo. Eh sì. E quindi, sì, sì. Eh? E quindi quella storia lì che ho un po' raccontato a tutti è stata incredibile. la mia storia su quei momenti ultimi suoi perché lei che non poteva più parlare chiaramente quei suoi occhi lucidi davano amore. Ok? E poi è riuscita a farmi capire con un gesto che che lei sarebbe stata con me perché le tre carezze alla mia pelle, tre, una per me, uno per mio papà e uno per mio fratello le ha date con le ultime forze rimaste e io l'ho capito. Capito? È bellissimo. È troppo brava. È una matica. A me sai cosa è dispiaciuto? Perché a me dispiace, a me dispiace perché io, essendo una persona carnale, che ho bisogno di toccare le persone, ho bisogno di sentire, no? purtroppo mi manca il suo abbraccio e poi dopo non lo meritava. Ma non lo merita per sé perché ha lavorato una vita, pensa, una vita, ha fatto l'operaio una vita. Caspita, dopo proprio 4-5 anni che è andata in pensione, nella sua casetta che io con i miei risparmi, con la fortuna di giocare a calcio ad alti livelli ho potuto guadagnare tanti soldi e quindi il mio primo, la spesa più bella che ho potuto fare è stata quella di regalare una villetta schiera a lei e mio papà, no? Che poi era la nostra casa quando io tornavo dopo le partite, quindi mi dispiace perché a lei gli bastava solo per dire la sua poltrona e la sua cucina perché era andata in pensione quindi lei aspettava solo che noi tornassimo dalle nostre, diciamo, città per prendere il tè con i biscotti, sai quelle cose semplici, no? Caspita, mi dispiace perché poverina l'ha goduta a pochi anni. Solo quello. Beh, però non c'è discontinuità, no? No, 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 ma è per lei. C'è un altro tipo di abbraccio, no? No, è un abbraccio costante che si evolve a diverse forme perché poi io come lo dico sempre la trovo in una tazza di tè in una canzone nel vento nelle stelle la trovo ovunque però mi dispiace proprio perché essere portata via così dopo tanti anni di sacrifici perché io non dimentico i sacrifici cioè io come tanti ragazzi sicuramente che sono qui giovani perché a me piace io sono un grande tifoso dei giovani mi piace quando i giovani si ribellano vogliono uno spazio che meritano molte volte nella società e che spesso viene loro negato senza giustificarglielo e questo a me girava i coglioni quando ero giovane perché i sacrifici di mia mamma e mio papà sono stati tanti tantissimi e la racconto sempre questa cosa qua quando mia mamma era dalla mia però mio papà ogni tanto apriva il frigorifero e diceva non va bene c'è troppa roba perché c'è troppa roba bisogna meritarsela ce n'è troppa dobbiamo calare perché io non ho mai avuto non mi è mai mancato nulla ma ho sempre dato peso a tutto e quello che c'era non era lì in più a caso anzi era meglio una cosa in meno a quei tempi la pizza il sabato sera in quattro era un privilegio che dovevi guadagnarti durante la settimana invece mia mamma era un po' più per noi ma le mamme sono così caspita io volevo il Mars non mangia la loro pizza per darla a te mi piacevano sai il Mars il Lion che costava 500 lire quindi cosa si faceva e questo mia mamma lo sapeva si andava al tabacchino ok si andava in due ok perché uno doveva distrarre e l'altro zona in prescrizione tranquillo in prescrizione ma secondo me posso dire lo sapevano anche loro perché erano complici di questo percorso c'era da portare via qualcosa ma cazzo con un Mars allora lo dividevi dovevamo c'era da conquistarselo e mio papà mi ha fatto dare peso quel Mars facevano gli operai sì mia mamma operaia in tipografia mio papà era un artigiano del legno ecco questo lo dico tranquillamente era molto più bravo mio papà nel legno che io nel calcio era bravo perché mio papà era staccato da questa azienda che adesso ha chiuso e faceva le finestre speciali i serramenti era bravo per quelle curve cominciavano a essere tutti quelle ma era proprio appassionato conosceva i vari tipi lui era quello del paese che doveva fare quel tipo di serramenti era un fenomeno era proprio bravo poi era appassionato era appassionato di legno secondo me non era così tanto competente di calcio ma se io glielo dico mi fa un culo così mi fa morire quando parla in dialetto e so che è contrario alla mia opinione sì allora lo dici in dialetto così senti prima prima di parlare prima di parlare di Messi che dopo saluti perché non si può non parlare di Messi prima di parlare di Messi e poi bisognerebbe parlare di Maradona però sì infatti è propedeutico ma senti un po' con questo tuo con questo tuo amore questa passione verso il Sud America verso quel modo di giocare e quindi mi verrebbe da dire che in ultima analisi al di là della tecnica che è fondamentale però se non c'è quella garra lì no non si va a te ti ha cambiato la vita la garraccia perché io perché perché un piccolino può solo avere la garra nella vita se no non ha un cazzo hai capito hai ragione hai ragione ti racconto il famoso gol di cui ti voglio parlare da un'ora ma che non me lo fai dire te lo faccio dire 11 anni derby Villa Cortese contro Busto Garolfo no è per quello che tanto tempo fa allora Busto Garolfo era come diciamo la Juve no sì e Villa Cortese come il Brescia proprio sfigato fatto sei anni sono stato anche capitano no ma per dire di rispetto no no rispetto ma aspetta fai finire l'epica ah certo fai finire l'epica quindi c'è il derby noi perdiamo sempre no 0 a 0 in casa del Busto Garolfo io ero sempre in panchina perché disperato il mister che vorrebbe vincere una partita diceva vabbè Poretti entra io allora ero alto un metro e diciotto forse un metro e quindici quando avevo quell'etalino sono entrato in campo e il difensore che era già alto come te mi guarda e dice a quell'altro dai Marco lo te questo qua questo qua che io vado a fare che io vado a fare gol cioè puoi capire cioè lì ho capito la garra la cia rua esplosa dentro di me e io ho detto te la faccio pagare pezzo di merda ma dentro di me cioè non l'ho esternato sennò questo mi ammazzava capito ma speravo solo che mi arrivasse lì una palla no a un certo punto mi arriva una palla casuale perché i nostri giocavamo malissimo mi è arrivata casuale però oltre alla garra ero velocissimo no quindi non so come sono arrivato davanti al portiere io e il portiere il difensore del busto Garolfo dietro e ho fatto gol l'unico della mia vita l'unico della mia vita ma tu pensa cos'è il calcio cioè cosa fa il calcio tu te lo ricordi e le montagne erano collinette allora probabilmente è passato un po' di tempo non voglio non l'ho capito non voglio infierire però ne almeno sull'altezza di allora e ora non mi permetto ti sei già permesso bastardo no era una premessa non era la parte più importante ma pensa cosa fa il calcio allora noi siamo io sono qui diciamo la mia materia guarda quanta gente che è qua prevalentemente per te però anche per le esperienze eh che ci dà il calcio il calcio il calcio è proprio anche comunicazione cioè nel calcio ci ritroviamo un po' tutti è incredibile è una forza il calcio anche ha tante ingiustizie nel calcio l'ingiustizia è molto comune però non so è una stella polare che ci guida ci è una cosa incredibile perché poi il calcio è proprio di tutti cioè c'ho un ruolo io hai un ruolo anche te cioè nel senso ce l'hai avuto anche te ce l'hai ce l'hai avuto ognuno può trovare il suo spazio nel calcio perché non c'è limite all'amore e tu pensi un pallone che rotola ma infatti ma ascolta stiamo parlando di amore tu che sei appassionato volevo tirarti in balla l'hai detto tu non l'avrei fatto ma io amo le polemiche hai detto adesso non voglio sai perché? perché non concepisco il silenzio bravo ok ok quindi mettiamo per paura ok no 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 si affrontano le cose allora non parliamo di allegri no? non parliamo di allegri no 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 non voglio parlare di allegri ma è semplice voglio parlare di sacchi perché? io lo dico da tifoso deve pontificare sempre ma lì gioca male gioca male no ma tu non dice così però eh? non fa così io non fa così mi gioca male ma gioca male allora ti spiego allora allora sa chi è uno dei tre attori che ha cambiato il calcio sono veramente tre quattro però sa chi allora io se sto zitto non cambia nulla sa chi può veramente parlare eh cioè sa chi le esperienze di sa chi poi tu puoi dire a volte e c'è sempre quel disco ripetitivo quel disco è giusto eh capito equivale ai Rolling Stones le Zeppelin voglio dire gli U2 parliamo di storie della musica in questo caso al calcio sa chi dice una cosa sempre giusta sì però è vero però dice giusto c'è un percorso per arrivare se sei top player in squadra devo difendermi per forza ma non dice questo tu non so ma tu sai chi è Saki chissà che cazzo di Saki ascolto non dice questo non dice questo Saki Saki valorizza e mi trovo molto d'accordo con lui il concetto di un modo di fare che premi il coraggio che valorizzi il merito che permetta una squadra un gruppo ma io ti parlo anche di tutti i lavori perché io poi lo cambio lo metto nella vita sempre il calcio di arrivare al risultato attraverso il sacrificio non aspettando o sperando nell'errore avversario o senza andare a conquistarti una cosa farlo da furbo e chiaramente lui parla poi forte di quello che veramente ha dimostrato di saper fare perché quella squadra diventa grande rivoluzionando il mondo di pensare poi Saki parla spesso di di storia veramente del calcio attraverso anche figure che Franco Baresi quando dice quando io sono andato a allenare Franco Baresi i difensori avevano il culo pesante vuol dire difendevano e stavano dietro non li portavo su quindi c'era da lavorare atleticamente c'era da lavorare concettualmente e quindi i grandi giocatori che ascoltano una persona rivoluzionano il modo di giocare fanno cose nuove cosa ti dimostra che si può fare quindi secondo me se tu unisci tutte le cose quello che dice Saki è molto molto importante lo puoi portare in ogni contesto della vita io dico valorizziamo non l'ottenuto ma il meritato che è diverso quando coincidono siamo tutti felici ho ottenuto perché l'ho meritato molte volte se tu ottieni ma non meriti in un contesto così che ha tanta ripercussione come il calcio ok dice buon Marcello Bielsa ok cosa succede che tu fai passare per buono una cosa non buona invece è il il merito che va premiato guarda che io la pensavo così volevo sentirtelo dire da te cioè non è che allora gli ultimi minuti li dedichiamo alle due divinità sì perché Messi giustamente dici due perché Messi ha raggiunto Maradona vincendo il mondiale io non ti faccio domani no allora vai questa è una cosa che per forza quei livelli dobbiamo concludere così con loro no perché questo è per forza a quei livelli c'è da conviverci con questo binomio che è andato avanti quindi io non ero tra quelli che dicevano ma Messi se non vince il mondiale non può essere Maradona né quello che dice adesso e Maradona l'ha superato addirittura no questi sono regali che ci ha dato la vita poi ci sono delle differenze se vogliamo che Messi per vent'anni partita dopo partita gol dopo gol è andato in un campo da calcio e ha mostrato al mondo le sue qualità diciamo la sua capacità di essere speciale Maradona era proprio l'argentino che viene dal nulla e anche attraverso il calcio e la gioia di fare calcio e si è ribellato ai poteri forti ha fatto anche tanto rumore chiaramente la sua grande forza è stata dentro un campo da calcio ma non solo perché Maradona con gli errori le incertezze le debolezze tutto quell'assurdo che viveva anche da uomo fuori dal calcio facendo male a se stesso soprattutto a se stesso però dava valore al vero senso del gioco che è quello di un pallone che è per tutti anche in un campetto di fango dove non riesce a fare le porte io ricordo tanto di quello della mia vita e quando lo fa il numero uno del calcio e ti dice a un matrimonio se io avessi un vestito bianco e mi tirano un pallone infangato io lo stopperei di petto si potrebbe anche finire qui si potrebbe finire qua direi di sì grazie Lele e siete testimoni tutti Lele Adani farà di me un gran giocatore di padel giusto? volentieri foto per la stampa ciao a tutti grazie Lele grazie Giacomo grazie a voi grazie grazie di cuore grazie dalla regia mi hanno detto che forse ci sono un paio di domande ti va? ma io starei qua l'altra mezz'oretta però ma compito questi qui lavorano non è che non hanno un cazzo da fare come me e te questi lavorano domani forse vedi non ha ragione nessuno perché vai uno dei concetti forse uno dei primi che hai portato anche sui soci è quello dell'allenamento si fa l'abbiamo parlato se ti va di dirci qualcosa in più su questo allenamento che si fa alle 5 di mattina alle 4 in casa d'uomo come c'era contato grazie di seguirmi così nei dettagli grazie sono già stanco ci sediamo volentieri volentieri Giacomo anche quella cosa ti farò fare allenamento? si a qualsiasi ora ti convoco 3-4 ore prima io spengo il telefonino non ti dico dove abito e io ti mando a fuoco il teatro vabbè che carattere va bene non accetto il no allora prima devo spiegare aspetta scusi deve rispondere alla domanda poi dopo diamo la parola a lei si è prenotato il signore là in fondo due domande qui si è confuso no il mio allenatore nasce innanzitutto dal mio allenatore dei pulcini quando ti parlo le figure del paese si che lui diceva proprio e anche questa cosa mi rimane diceva pioggia sole grandine tempesta non ci sono scuse l'allenamento si fa e questa cosa qui dell'allenamento è diciamo così la conferma dal mio punto di vista la testimonianza anche pratica fisica a quel discorso del merito io penso che se tu vuoi una cosa per meritartela devi far fatica quindi questo è il concetto l'allenamento andare fuori la corsa che ragazzi è una delle cose che non sopportavo neanche da giocatore figureremoci adesso che hai 3, 4, 5, 7, 8 kg di sovrappeso è duro andare a correre perché poi c'è freddo c'è caldo hai da fare ma andare a correre e raggiungere l'obiettivo avvicinarsi alla mente quella che ti riprefissa e poter poi dire l'allenamento si fa e sempre si farà è una cosa che secondo me ti porta stimolo e un senso anche di giustizia e di rivelazione del merito fuori quindi questa cosa la sapevi già però mi hai dato l'opportunità di ridirla quindi grazie bene the last questions usa il microfono se no non la sentiamo prima quando parlavate di Messi e Maradona a me subito viene in mente Sivori che io ho visto giocare negli ultimi anni io quello che dico secondo me era a pari di Maradona e di Messi però ormai non se ne parla più allora questa è una cosa secondo me interessante che ha fatto bene a puntualizzare perché poi ogni calciatore è figlio della sua epoca e quindi noi spesso ci diciamo così ci concentriamo su Messi perché ha vinto il mondiale quindi accostandolo a Maradona adesso ci ha abbandonato anche Pelé però ci sono stati veramente grandissimi calciatori che hanno segnato la storia Pelé ne abbiamo parlato Craif Di Stefano Best e Sivori è stato uno di quei tra l'altro a Sivori sono particolarmente affezionato perché cosa è riuscito a fare il River con la sua accessione alla Juve il River Plate ha completato il Monumental che era fatto per tre quarti lo stadio nostro quartiere di Nunez come tu ben sai a Buenos Aires ha completato e l'ultimo pezzo di stadio si chiama ancora Tribuna Sivori Tribuna Sivori capito quindi condivido su quel piede mancino e quella classe e anche quel senso di ribellione argentina io chiuderei col ragazzo facciamo parlare a un ragazzo dopo andiamo si vai quando ti facevano il cambio come ti sentivi che sentimenti provavi guarda carogna no no cioè già piccolo così già carogna così in realtà quando mi facevano il cambio era perché mi facevano entrare perché ero in panchina bene però mi giravano le palle però cercavo di farmi bastare quei minuti pochi o tanti per dimostrare un allenatore che era un pirla signori Lele e Dani grazie 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 Giacomo